Contratti di gas e luce ingannevoli in Toscana sono state sanzionate tre società, tra cui Estra, che però assicura, abbiamo già preso le contromisure. Siamo un'azienda grande, di origine territoriale, che ha sviluppato improvvisamente anche un notevole volume di affari. Ci siamo avvalsi e ci avvaliamo anche le agenzie esterne e quando si cresce molto può capitare di sbagliare, di incontrare dei soggetti non adeguati che immediatamente dopo sono stati allontanati. Si è trattata di una pratica di aggressività commerciale che è sfociata su questa multa, però c'è da dire che Estra ha immediatamente preso la situazione in mano, è successo il fatto prima che io mi insediassi e abbiamo preso tutta una serie di contromisure, di buone pratiche interne per evitare che si ripeta, perché comunque resta una cosa grave e non dovrà più accadere. Questa è una società in cui i soci sono i comuni, per noi clienti sono cittadini e non dobbiamo praticare azioni commerciali nemmeno simili, lontanamente assomigliabili a pratiche commerciali aggressive che possono fare altri operatori. Noi concordando con l'autority di riferimento abbiamo messo in piedi tutta una serie di misure di sicurezza che producono una serie di controlli dell'azienda stessa addirittura chiediamo conferma al cliente che abbia effettivamente sottoscritto e espresso una volontà compiuta nel rapporto commerciale, quindi mi auguro che non accada mai più e sono convinto che Estra abbia preso tutte le contromisure per evitare questi incidenti di percorso di una grande azienda che comunque cresce sia a vale di tanti collaboratori.